Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiba in questo nuovo video di Ghiss of War 3 Bene, continuiamo pure Ho la gru per mettere il carburante sul nastro Eh, bene Devo prendere la gru Eh, adesso prendere un attimo Togliti dei marroni, madonna stanno sempre tra le palle Eh, sono pieno Ok, ah ho usato solo seghe quindi Gli ho mettati tutti con una sega quindi non ho bisogno di munizioni Andiamo qua, è un po' che non trovo qualcosa Martello dell'alba Avete visto? Prespingeteli faranno esplodere il carburante Eh, ecco perché è martello dell'alba Potrò portare a prenderlo? Eh, dove era finito già? Martello dell'alba Eh, lo mettiamo a posto del cecchinazzo E vediamo un po' Vai Si calano dalle puni, beccateli Vediamo un po' Fa qualcosa Fa niente, non va Oh, non mi sembra che faccia molto Non fa un cazzo Cioè, che cazzo l'ho preso a fare sto martello? A meno che l'animazione non l'abbiano cambiata Non mi sembra che faccia niente Va bene Andiamo avanti Ok Ma l'aveva detto che non funzionava bene Ho preso Ho preso Ho preso Oh cacchio Andiamo qua Eh, tu non te lo parecchi Cavoli Oh Morto Poi Morto di lui Ah, ma te c'hai l'implicato Porca La prova Eh, qui ci sono Beccateli che ci sono Ok Mamma mia Ecco qua Ok Mamma mia Che bordello Cavolo Mamma mia Mamma mia Però Un bel casino Devo mettere un bel casino Ti aiuto io Non ti preoccupare Oh la Una cosa che c'è per te Eh, sì Le lancette girano Oh, c'erano le altre Madonna, quante Ok Ho fatto pieno Dove devo andare? Di là Do là Devo andare Do là Andiamo Do là Ecco qua Almeno Abbiamo messo un po' a posto le cose Andiamo un po' Do là ancora Ragazzi Aspettatemi Porca miseriaccia E qui cosa c'era? Eh C'era un minigun? Che bello Ma mortali No, me ne facevo niente Mortali Dai Andiamo un po' Eccoci qua Di nuovo qua Quanto pare A quanto sembra Dimmi esattamente Dove vuoi che vada Di là Scusate Sono un po' rincoglionito Chi è caduto di sì? Dramico Ok Torna al sottomarino Punto di sosta Sam Tutto bene? No Niente affatto E lo stesso vale per te Già Hai perfettamente ragione Ma non ci arrenderemo vero? Per lui Eh Sarà dura Sarà dura veramente Ok Torna al sottomarino Sono tornato Ma questo ci porterà ad azzura Wow Perfetto Oh Non è che ne abbia bisogno infatti Quando non ho bisogno Me ne danno un insubero Quando ho bisogno Non mi danno mai niente Quindi io devo andare A farmi capire Perché scusa Come ci va? Pare che il sistema di carrucole Arrivi fino al molo Dizzy Pensa alle porte dell'hangar Noi ci occuperemo Della resistenza Che incontreremo Ok Oh Ci penso io a te Allora Guarda te che stroppo No Non ci credo Non ci ho fatto Alzati Ok Andate Ma ecco qua Roma da niente No qui le munizioni Vanno sempre a puttane Vabbè che ne ho Quante vuoi adesso No no c'è il boomer Ok andiamo alla seconda porta Ma porca di quella porca E mi sbaglio sempre Qui non c'è niente Già non ho trovato più nulla Vediamo che cosa c'è Dietro la porta numero 2 Oh beh immagino Che non ci troveremo Un ricco buffet Dizzy Ok Dizz Apri la seconda serie di porte Ah non posso Farci niente qua Ok Attenzione Qui ci sono le guardie Della regina Tanti di qua Dobbiamo liberarcene Per aprire la prossima porta E come cavolo faccio adesso E' un bel cavolo di casino Sono a secco Eh arraggianti Perché io ho usato la chiesa Ti arraggio aiuto Porca troia Ma avete visto Porca la vacca Ah di niente riprovo Non l'ho capita cosa mi ha preso ma mi ha preso qualcosa di veramente forte A meno che non fosse un cechinazzo Ok Dizz Apri la seconda serie di porte Devo trovare un metodo di riuscire a farlo Bene Attenzione Qui ci sono le guardie Della regina Anche di qua Dobbiamo liberarcene Per aprire la prossima porta Ok Uno l'ho ucciso Dai a meno questo Andiamo qua L'altro è andato Ci deve essere qualcosa Più grosso Intanto il boomer lo sto uccidendo E' ucciso E' ucciso E' adesso ci rimasto questi Ci sono cecchini Ci sono cecchini questi Ah cavolo Ok Ah io l'aiuterei anche questa Ok Dizz Queste sono le ultime porte Preparati a far passare il sottomarino Scommetto che le locuste ci hanno preparato una festa Già Ok A posto così Bene Mamma mia E adesso Dobbiamo salire qui Lei se l'ha già andata Vero Anni è di là Andiamo un po' Mamma mia Che casino Che c'è stato qui E' stato veramente Un gran casino Qui non c'è niente Io mi stupisco di non trovare più niente Veramente sono un po' stranito Vabbè che ho spolato poco Per la fretta Ma Vedete che qualcosa c'era Questo cos'è Però 8 su 20 Mi ho lasciato indietro Un esubero Esagerato Adesso tocca al metro Deve fare male Eh si Ma dai Parmessi me l'ha abbastanza Un attimo Vedo dove sono Oh cavolo Eh Oh E' di tiro a cazzo Ma fa sempre Toi coglioni Oh Deve fare male Eh Già Bu 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 Eh bu 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 Siamo passati Andiamo Ok Andiamo Via Non la porto dietro Sennò E' veramente Troppo pesante L'avevo preso Il culo prima Mamma mia E questo è il Monocolpo Monocolpo Eh Se è bello Prendere anche questo Dove devo andare Esattamente Di qua Andiamo Arrivo Ok Mamma mia Che strage Che abbiamo fatto Veramente una strage Ok Ok A posto Ecco Il culo della regina Merda Qualcuno si è potenziato Già Questo è il big bomb Merda I proiettili Gli rimbassano contro Ah beh Grazie Proviamo gli esplosivi Granata Asseggo Ok Cantus Corazzo Oh my god Porca miseria Eh Nah Starai bene Sì sì lo so Quindi è già morto Mamma mia E' andato che l'altro Roba da niente Oh Vabbè Vediamo così E così L'ho tenato però eh Ah guarda Granata Vai vediamo Ah non ce l'ho gioco troppo la porca troia e non andava e arrivano altri che culo un canto scorazzato oh porca la miseria cazzo ci sono altri sirapedi eh questi non li uccido neanche ok oh cavoli porca la miseria no non ce la faccio alza alza ah c'è il medico eh va non il culo va sto cazzo di verme di merda che servirebbe aiuto eh lo so che ci servirebbe aiuto ma granata dai ok adesso però no 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 tutto il loro ma non impedirci di raggiungere ma devo aver costruito un'arma con i piatti già ma guarda te no no cavoli non ci ravevo no no guarda li sotto porca miseria ah non so come fare non so dove fare perchè sono veramente forti dai fatti il culo forte sta facendo fare il giro forno ok si sa che solo io devo fare questo allora vediamo un po' oh cazzo ma è velocissimo però almeno gli ho fatto un po' di culo eh adesso se vengono non servirebbe una mano dai ania ti sono debitore ok preso uno e questo bordo ci sono delle granate qui grande dov'è eccoci qua granata no che miseria ok ok inondiamo il molo e poi tutti a bordo mamma mia sei stata dura ragazzi è stato un casino vai andiamo pure perfetto data ok wow bene oh si parte ania col passo qui col col qui ania il sottomarino è in funzione un sottomarino il giocattolo preferito di bird ma devi vedere cosa abbiamo trovato noi baby col per favore ania hai una voce strana qualche problema siamo diretti verso azzura ci vediamo fuori dal maelstrom ma potrebbe volerci un po' oh oh si noi ci saremo e porteremo i rinforzi guardati le spalle col ania chiudo non preoccuparti ania ci penso io non se ne parla glielo dico io eh sarà un bel problema sarà un casino sarà vediamo il giocattolo preferito di bird atto 4 capitolo 6 tomba d'acqua oceano serano il giorno dopo il giorno dopo ore 14 e 13 oh no mi dico che devo guidare sto coso io odio guidare i veicoli in questi giochi perchè non capisco mai niente lo sbara quindi posso solo guardare wow come si chiama questo posto? chi lo sa? non ne ho idea i vermi l'hanno distrutto esatto beh niente male ma le città fantasma mi hanno stufato ok siamo vicini ad azzurra presto arriveremo al mestrum tutti alle postazioni dis facci entrare gradualmente già farei meglio di attivare i cannoni probabilmente anche il assinto ha questo aspetto ora già e l'abbiamo fatto a noi stessi non ha senso recriminare del resto non sapremmo come sarebbe finita anche se avessimo agito diversamente ok cannoni pronti cerchiamo di non farci a vicenda ecco non ho mai usato questi armamenti prima d'ora si potremmo anche farcela con un po' di pratica ok eh devo solo aprirmi la mia ok tolgo energia ai cannoni tutto tace meglio non sprecare energia ehi marcus qui è pieno di esplosivi tenete tutti gli occhi aperti non siamo venuti fin qui per farci uccidere dalle nostre stesse mine già vediamo un po' ehi date un occhiata a questo eh eh sembra che abbiamo la scotta sono un po' titubante sono un po' percorso e ha anche portato degli amici ottimo fantastico li vedo punto di sosta occhio ah cazzo metto a tutto l'errore queste dannate cose iniziano ad essere pericolose eliminatele oh porca miseria adesso vale a beccare merda imbarziamo acqua ah per forza attenzione ce ne sono altre si le vedo continua a sparare io mi porto fuori di qui tritti davanti a noi sorpresa devo toglierci quelle cose dalle cose sorpresa sorpresa ho preso l'altra Dizzy quanto scende questa cosa? signora non avrà importanza se uno di quei pesci ci fa un buco attento che trascherò da sopra ma porca la vacca ci stanno massacrando non riesco a guidare me porca la vacca di me e la porca vacca vediamo un po ok mi sto rigenerando veramente via libera non li vedo ma non significa che non possano trovarci attenzione ma porti reguolo la luce del faro Dizzy ogni di mezzo la luce e portaci via rega buona tavolo ah così vedo molto grazie Dizzy non riesco a vedere un cazzo perfetto tranquilli posso usare il solar per evitare gli oggetti più grandi ah questi grandi qualcos'altro ci insegue il solar è libero Dizzy come va col sottomarino? siamo ancora in te signora tutto ok perfetto mamma mia oh punto di sosta ragazzi ci fermiamo qua per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video di Ghissofort sperando che usciamo il prima possibile da questo mezzo perché non riesco proprio a manovrarlo bene ragazzi io vi do un saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao